Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un calore buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Partiamo con i titoli dei quotidiani in edicola Il Corriere dello Sport Stadio Malinowski-Fares 2 da Fiorentina Tutto sport, Cutrone Ora farò gol per tutti i medici e gli infermieri La Nazione arrabbia Cutrone Dopo il virus regalerò tanti gol a Firenze Il Corriere Fiorentino Daniel Bertoni Assurdo tornare in campo senza pubblico Non è calcio Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport Stadio Il DS Viola Daniele Pradè avrebbe puntato nuovamente Ruslan Malinowski Centrocampista 26enne dell'Atalanta L'Ucraino ha dichiarato di essere stato contattato Dalla Fiorentina in estate Ed è probabile che questi contatti abbiano seguito Nella prossima sessione di mercato La Viola però pensa anche a Mohamed Fares Della Spal Rientrato da poco da un infortunio al crociato Sul franco algerino si punterà Se D'Albert dovesse fare ritorno all'Inter Cutrone a tutto sport Il peggio per me è alle spalle Contento che la Viola debba essere un punto di approdo Poi un'altra intervista dell'attaccante Viola alla Nazione La Fiorentina è un club prestigioso Ha detto il numero 63 Iachini chiede molto Ottimo il mio rapporto con Chiesa e Vlaovic Paolo Sosa a tutto sport Chiesa crescerebbe se andasse alla Juventus Potrebbe stare a contatto con grandi campioni Per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi